Allora, eccezionalmente video intervista con il coach Pansoline, parliamo della partita di ieri sera di Civitanova Marche, come è stato l'impatto con il livello interregionale di questo Cissile? L'impatto è sicuramente importante, perché loro sono una squadra molto forte, strutturata, creata per salire di categorie e quindi sicuramente attrezzata. Noi abbiamo giocato la nostra palacanestro e la nostra palacanestro li ha messi in difficoltà perché comunque noi siamo una squadra tipica che da pochi punti di riferimento e siamo riusciti ad avere un grande impatto all'inizio, sorprendendoli forse, perché forse non pensavano che i nostri lunghi potessero impensierirli in qualche modo e su quell'inizio abbiamo costruito una partita che poi è stata punto a punto per un 32-33 minuti. Poi è chiaro che la distanza vengono fuori, la loro profondità, il fatto che comunque giocassero in casa, non avessero fatto 600 chilometri eccetera eccetera, però sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. trasferta lunga, pesante, c'è da ricaricarsi, arriva Vattipaglia che ieri ha vinto, tra l'altro non siete neanche ultimi perché ha vinto anche più ampiamente con Cagliari di quanto l'ha fatto Civitanova. Arriva Vattipaglia che confesso non ho ancora visto, vedrò penso domani. Sicuramente è una squadra altrettanto forte perché hanno fatto bene in Campania, hanno giocatori di esperienza in tutti i ruoli, hanno anche loro come Civitanova dei giovani interessanti. Io sono convinto che saranno sei partite, o meglio, ormai saranno cinque, ma sono sei partite divertenti. Ieri ce lo siamo detti più volte in Spogliatoio durante la partita, durante il Maman, ci stiamo divertendo perché comunque il livello è alto, noi ci stiamo e quindi ci stiamo divertendo. Bene, speriamo che ci venga a divertirsi un sacco di gente a Palacruz. E saluto al prossimo. Esatto. Grazie a tutti. Ciao.